Il Comune di Arcola ha grandi potenzialità turistiche e ancora in parte inesplorate. Come amministrazione comunale state mettendo in campo tutta una serie di iniziative per far conoscere il vostro bellissimo territorio. È proprio così. Stiamo avviando questa campagna di promozione del nostro territorio con l'assessorato al turismo che è Visita Arcola, il diamante della Val di Magra. Questo è un messaggio che noi ci auguriamo arriverà a tantissime persone, anche quelle vicino a noi, ma anche ai tanti stranieri italiani, ma anche europei, che stanno iniziando a vedersi qui sul nostro territorio. E lo abbiamo fatto attraverso una serie di elementi, uno dei quali è una sorta di libro di viaggio che proponiamo con cinque itinerari. Questo cinque è un numero magico, è un numero particolare perché rappresenta per noi il legame con la torre pentagonale dell'anno 1000, la torre Obertenga, appunto, che è una torre con cinque lati, una torre difensiva con cinque lati. Su questo numero cinque abbiamo costruito questo libro di viaggio. Quindi tante, tantissime cose importanti da visitare, da vedere, e i gioielli ineguagliabili del nostro territorio. E noi speriamo davvero che siate in tanti quest'estate per tantissime iniziative che in parte abbiamo fatto e che si concluderanno verso la fine dell'estate con una sorpresa, che speriamo di potervi rappresentare presto. Un evento un po' più importante che speriamo raccolga questa sfida dei gioielli ineguagliabili. E quindi vi aspettiamo. Cultura, storia, sport, territorio e no gastronomia state costruendo un'offerta turistica davvero per tutti i gusti. Sì, questo progetto si basa sul numero cinque che si collega alla base della nostra torre pentagonale. Proprio dal numero cinque siamo partiti per rappresentare quelli che noi chiamiamo i pilastri della nostra cultura e della nostra identità locale. E quindi abbiamo arte e architettura, parchi, giardini e tempo libero, produzione agricola etipica, cultura e arte sacra e muoversi nel territorio. L'obiettivo di questo nostro grande progetto di promozione è proprio quello di promuovere, salvaguardare i nostri borghi, la particolarità del nostro territorio e anche di renderlo un po' al di fuori dei percorsi generalmente battuti dal turismo di massa. Questo è il nostro grande obiettivo a cui teniamo molto.